Correva l'anno 1975, Volkswagen, la casa di Wolfsburg, si apprestava a presentare un'auto che sarebbe diventata rivoluzionaria per il mercato mondiale, ma soprattutto europeo, un'auto compatta dall'anima puramente cittadina che ha venduto nel corso delle sue sei generazioni veramente milioni di esemplari. Un salto temporale nel 2021 mi trovo dagli amici di Volkswagen Zendrumbari dove posso mostrarvi l'aggiornamento 2021-2022 della sesta generazione di Volkswagen Polo. Scopriamola insieme. Beh, come obbligo direi di partire proprio dall'analisi estetica dei cambiamenti di questo aggiornamento 2021 della nuova Volkswagen Polo. Sicuramente quello più importante esternamente riguarda il frontale con gruppi ottici rivisitati, anzi sapete che vi dico, questa qui ha gli IQ Light che sarebbero i fari LED Matrix. Vi faccio vedere un attimo, questa è l'accensione con gli indicatori di direzione, la rispegniamo, a breve vi faccio vedere appunto tutta quanta l'illuminazione esterna, ma come possiamo già notare abbiamo due elementi, uno e due, per quanto riguarda i fari con la firma luminosa che si va a ricongiungere a questa crossbar, questa bar che viene, se vogliamo, spezzata unicamente dal logo di Volkswagen cromato. Il nuovo logo molto stilizzato, praticamente in bianco e nero, se non fosse che nella vita reale cromato, ma molto interessante, con questa estetica che la rende larga. Guardate un po' questa fascia centrale della vettura che, unita alla firma luminosa inferiore dei gruppi ottici, che sono tra l'altro stati ridisegnati con una firma luminosa della rovesciata, ma anche con questo piccolo sbalzo, la rendono più larga. Oltre a questo, ad aumentare la sensazione di larghezza della vettura, è anche il paraurti ridisegnato e pesantemente rivisitato con questo baffo in colorazione della vernice. Abbiamo anche i fendinebbia a LED e appunto questa grande bocca che è la griglia inferiore, che è ovviamente molto più larga e dona molta presenza, se paragonata ad esempio anche alla calandra superiore. Tra l'altro notiamo cosa? Che oltre a questa stripe, che giuro adesso vi mostro accesa, vediamo essere ripresa la forma orizzontale di questi listelli inferiori, che sono spezzati appunto da questo baffo, da questa piccola zanna verniciata, ma appunto mantengono ancora di più una sensazione di larghezza della vettura. A proposito di larghezza, direi che è proprio il caso di parlarvi un po' delle dimensioni di questa Volkswagen Polo, che sono se vogliamo pressoché invariate rispetto alla generazione, anzi alla variante pre-restyling. Parliamo di una lunghezza di 4,05 m, una larghezza appunto di 1,75 m e un'altezza di 1,44 m. L'auto rimane comunque molto compatta, con un passo di 2,56 m. Ho parlato abbastanza di numeri per adesso, direi di avvicinarci alla vettura, vediamo se il killer si è stato esatto, è già stato configurato. Accendiamo i fari, dalla classica levetta qui, ok, si sono accesi. Vi faccio un po' vedere appunto questi fari. La vedete? Si è illuminata questa stripe, molto accattivante, che è nata con la Arteon, poi è stata ripresa sulla Golf 7 e adesso fa bella mostra di sé anche sulla sesta generazione restyling della Volkswagen Polo. Molto aggressiva, molto moderna, dà veramente una sensazione di larghezza. E già che ci siamo, prima di spegnerli per preservare la vita di questa batteria, non è elettrica, mi raccomando, però appunto ha pur sempre una batteria, vi faccio vedere anche i gruppi ottici posteriori, gruppi ottici che anche qui sono stati pesantemente rivisti, perché se nella parte che si ricongiunge al lato della vettura, ecco, sembrano più simili alla generazione uscente, nella parte centrale, dove tra l'altro sono sdoppiati con questa ciglia che viene unita al portellone, vediamo come mantengono, anzi portino su questa generazione, una forma anche qui di L rovesciata, ma non nella firma luminosa che ce l'ha comunque tratteggiata con questi tre elementi e anche un baffo superiore, ma quanto proprio per la forma in sé della fanalleria, proprio del gruppo ottico. Direi di spegnere i fanali, magari a breve, oops, spoiler per la tecnologia di bordo, ma la vedremo fra un po', direi di dare uno sguardo alla vista laterale, perché sì, vi ho parlato delle dimensioni di 4,05 metri di lunghezza di questa vettura, ma voglio farvi vedere anche qualcos'altro che dona dinamismo all'auto. Abbiamo un qualcosa che Volkswagen chiama Tornado Line, quindi sotto la linea di cintura della vettura abbiamo quest'altra moda natura, guardate un po', che parte da poco sopra il cerchio anteriore e corre per tutta quanta la fiancata, fino ad arrivare in alto alla spalla e in basso, proprio alla nervatura del gruppo ottico. Secondo me è un tratto stilistico molto interessante, a dare ancora più dinamismo ci pensa il terzo finestrino che si trova sull'ampia montante C della nuova Volkswagen Polo, che non è semplicemente, se vogliamo, statico, piantato su se stesso, ma ha questa forma che punta tutto verso l'anteriore e quindi anche questo porta dinamismo proprio al design della vettura. Di cos'altro vi posso parlare? Per esempio dei cerchi, abbiamo dei cerchi da 14 a 17 pollici sulla nuova Polo, personalizzazioni che oltre ai fari IQ Light con la tecnologia Matrix LED, che si trovano come optional o comunque di serie a seconda delle versioni più ricche ovviamente, abbiamo personalizzazioni come ad esempio il tetto nero ha appena smesso di piovere, perdonatemi, ma comunque si nota già la differenza, nonostante sia un po' sporco, infatti sono uscito adesso dal concessionario perché ho detto ok, ha smesso di piovere, mi sono studiato l'auto abbastanza, è il momento di andarla a scoprire per i nostri amici di WeDrive. Ma appunto, bando alle ciance, mi dicevo, c'è questa personalizzazione del tetto nero, ma anche delle calotte degli specchietti anch'esse nere, quindi a contrasto con questa bella verniciatura grigia. Andiamo un po' a dare uno sguardo al posteriore. Vi ho già fatto vedere i gruppi ottici, anche qui quindi abbiamo pesante area di rinnovamento di gruppi ottici che vediamo un po' se riesco a chiudere la macchina per mostrarvi un'altra caratteristica, questa tra l'altro è la chiave. Vediamo un po', mettiamo a fuoco. Vedete un po', abbiamo i led dinamici per l'indicatore di direzione e anche il paraurti è stato rivisitato in funzione di una maggior presenza su strada e quindi larghezza. Da certi punti di vista mi ricorda quasi la Golf, questa Polo per quanto riguarda il family feeling posteriore. Abbiamo lo spoiler qui in alto, ma come è classico sulle Polo direi di aprire il baule che non è cambiato chissà quanto, ma appunto l'apertura è la classica forma, quindi basta alzare il logo e ci si ritrova proprio a cospetto del portabagagli, portabagagli frazionabile in configurazione 40-60 con una capacità di carico di partenza di 351 litri fino a raggiungere appunto abbattendo i sedili posteriori fino a 1125. Oltre a questo ovviamente vi ho messo il mio zaino e la borsa del cavalletto per darvi un po' l'idea di quanto è ampio il vano di carico, una bocca abbastanza importante e quindi comoda per la vita quotidiana. Mettendo questo pannello nella sua configurazione più bassa, dove troviamo in basso ancora più giù la ruota di scorta, nella configurazione più bassa si ha comunque un'ottima superficie da sfruttare, ma tenete a mente che lo scalino diventa abbastanza importante, come è ovvio che sia. Abbiamo dei ganci sulle parti, sulle pareti laterali, qui un po' è nascosto, e anche un led di cortesia. Ora, qui abbiamo anche un piccolo disegnino che indica dove mettere la propria mano in tutta sicurezza, quindi direi di seguire le indicazioni degli ingegneri di Volkswagen, perché è arrivato il momento di scoprire gli interni della nuova Volkswagen Polo. Entriamo per prima cosa da questo lato della vettura, perché voglio farvi vedere prima di tutto il display. Display che vanta una diagonale importante perché consiste tutto in questo, o quasi, la strumentazione dietro il volante. Certo abbiamo dei dettagli analogici come l'indicatore della temperatura dell'acqua o la riserva di carburante, ma appunto il digital cockpit che è di serie su tutte le nuove Polo ha una diagonale, metto di nuovo a fuoco perdonatemi, che va da 8 a 10,25 pollici a seconda delle versioni. Tra l'altro vedo anche quanto sia personalizzabile, mi salgo un attimo a bordo, perché abbiamo un saluto che dice benvenuti Zentrum SRL, quindi siamo proprio dagli amici di Volkswagen Zentrum Bari. Direi di accendere un po' con il pulsante qui il quadro, ok, chiudiamo lo sportello guidatore, credo di aver lasciato il baule aperto come mi avvisa la macchina, ma va bene. Accendiamo le luci, fare riferimento carburante, vabbè questi sono i classici messaggi iniziali di diagnosi della vettura, ma appunto questa è la strumentazione digitale che secondo me è uno dei cambiamenti più importanti all'interno della nuova Polo. Ovviamente vi faremo vedere in un focus più dettagliato tutta quanta la tecnologia di bordo, ma questo è un primo assaggio. A proposito di tecnologia, cos'altro cambia? Beh, fatemi un attimo mandare indietro il sedile che ve lo mostro. Sul volante abbiamo dei pulsanti che possono avere un feedback aptico a seconda delle versioni, sono molto eleganti, molto funzionali secondo me e hanno un ottimo feedback. Posso premere i pulsanti fisici, ma lo hanno anche quelli digitali che per esempio abbiamo visto sulla nuova Volkswagen Golf 7. Io francamente preferisco questi, ma non disprezzo gli altri. Accenniamo un po' anche l'infotainment. Infotainment che ha un design abbastanza elegante con delle diagonali che vanno da 6,5 a 9,2 con un'intermedia da 8 ed un sistema operativo MIB2 per la prima configurazione e dalla 8 alla 9,2 pollici di diagonale abbiamo il sistema MIB3. Sulla cornice in gloss black abbiamo tanti pulsanti dedicati a delle shortcut, quindi per esempio radio, dove siamo già, media, phone, voce, nav con il navigatore che va ovviamente attivato, le app, ma anche car con tutte le info sulla vettura e il menu principale di questo infotainment con dei widget molto interessanti, il centro notifica, ma appunto tutto ciò lo scopriremo in un focus infotainment ad hoc. Cos'altro possiamo notare abbiamo illuminazione interna in questa ciglia che corre per tutta la parte bassa fino alla maniglia delle portiere. A tal proposito vi voglio mostrare il pannello porta, il quadro acceso, va bene, con calma, lo spegniamo. Molto attenta questa vettura comunque. Abbiamo maniglia porta in alluminio, anzi effetto alluminio con lo sblocco della serratura, la maniglia con anche il controllo dei finestrini e degli specchietti elettrici, in basso lo speaker con anche questo bel design, come potete vedere, oltre ad una tasca in plastica. A proposito di plastica diamo uno sguardo, anzi sentiamo un po' i materiali, queste sono delle plastiche abbastanza croccanti devo dire, con un tessuto nella parte del poggiabraccio dei gomiti soprattutto, ma appunto su un'auto di questo segmento queste plastiche sono più che normali, sentiamo un po' anche le plastiche qui che diventano più soft touch, sono sicuramente più piacevoli. Come più piacevole soprattutto la vista è la parte verniciata del cruscotto. Molto belle sono anche le bocchette con questa forma trapezoidale, le troviamo ai due estremi, sono asimmetriche, come vedete, inglobate in questa cornice di nero lucido che va anche a circondare un po' tutto quanto il controllo dell'infotainment e sotto anche la zona dedicata all'aria condizionata. A proposito di aria condizionata, direi di accendere un attimo la vettura, così vi faccio vedere anche l'illuminazione perché abbiamo un controllo totalmente touch. È disponibile a seconda delle versioni un clima manuale, anzi con i controlli manuali più che altro, però questo è quanto. A proposito sempre di tecnologia di bordo, vi parlo del fatto che sotto abbiamo due prese USB-C, la possibilità di avere la ricarica wireless per lo smartphone e anche ovviamente gli aggiornamenti over the air di questo sistema, oltre che dalla versione style in poi, c'è la possibilità di avere l'app connect wireless, quindi con la connettività wireless di Android Auto e Apple CarPlay, banalmente senza un cavo. Questa è la leva del cambio manuale a 5 marce, c'è anche la possibilità di avere il DSG, ma questa qui è equipaggiata con il manuale 5 marce invece dell'automatico a 7 marce. Qui al centro abbiamo due portabicchieri e una presa a 12 volt, oltre che la cara, vecchia leva del freno a mano, super comoda. Poggio a braccio, che si può aprire, si può estendere come vedete. E anche, secondo me interessante, il design dei sedili. Sedili che sono molto avvolgenti e molto confortevoli, poi di questo ve ne potrò dare conferma magari in un futuro test drive insieme, ma al livello di design e di comodità statica, secondo me ci sta tutto con una, se vogliamo, un tutto con un bicolore, con la parte centrale, con questa striscia che sembra, anzi lo è, 3D in tessuto, e dei fianchetti in grigio chiaro, tutto quanto con cuciture bianche a contrasto. Molto accattivante. Cos'altro abbiamo? Prima di passare al posteriore, qui in alto, una zona con la plafoniera dedicata all'accensione manuale di tutte le luci e anche un comodo portaocchiali, adesso è un po' scuro ma ora cerco di farvelo vedere come si deve, eccolo, e i pulsanti dedicati all'assistenza stradale e all'SOS. Ora però usciamo dall'Apolo, o meglio usciamo momentaneamente, per entrarci dallo sportello appunto posteriore, per valutare un po' l'abitabilità posteriore di questa vettura. Tra l'altro vi faccio notare come questo passo e questa configurazione, noto tra l'altro abbiamo freni a tamburo al posteriore e a disco all'anteriore, dona pochi sbalzi, è un look molto piantato e abbastanza sportivo per quanto questa sia un'auto compatta. Vi faccio vedere un po' il posteriore, non prima di aver settato la mia posizione di guida, in base appunto alla mia altezza di circa 1,85 m, da qui dietro posso farvi vedere anche le regolazioni manuali per quanto riguarda la seduta, lo schienale di questi sedili anteriori e a un primo impatto vi faccio vedere, vi faccio notare come l'estetica, ma secondo me anche la qualità dei materiali è esattamente identica, per quanto qui non abbiamo una superficie in tessuto ma è pur sempre plastica nel pannello a porta, appunto tutto il resto è veramente identico a quanto si trova nell'anteriore, compresa anche la presenza di due comode prese USB-C, quindi vi dico, fatevi due conti, se non avete un cavo USB-C comprate un adattatore perché comunque in queste auto moderne, soprattutto le tedesche, il futuro è tutto USB-C. Chiudiamo lo sportello, l'ingresso a bordo è stato facilissimo, adesso è un po' buio ma comunque la bocca dello sportello la si nota secondo me abbastanza tranquillamente anzi facciamo una cosa, apriamolo un attimo, non troppo che vedo dei paletti a terra ma appunto vi faccio notare la bocca d'ingresso comoda, tra l'altro abbiamo il divanetto quasi a filo con l'ingresso quindi non dobbiamo affondare quando entriamo a bordo, devo dire ottima soluzione da parte di Volkswagen, qui dietro abbiamo una tasca portariviste, tanta tanta avvolgenza gli attacchi Isofix per il seggiolino, non vedo appunto la possibilità di avere un bracciolo centrale, forse tutto ciò cambia a seconda delle versioni e a proposito di centrale guardate un po' abbiamo un tunnel abbastanza alto, questa è la mia mano, arriva praticamente al mio polso l'altezza del tunnel centrale, del posteriore di questa Volkswagen Polo ma devo dire che tutto sommato secondo me almeno in due si viaggia molto comodamente, io francamente sto seduto molto molto comodo, nel frattempo vi sto facendo vedere l'abitacolo nella vista appunto da qui, dai passeggeri posteriori, della nuova Polo che secondo me mostra un'estetica pulita e molto funzionale soprattutto, sebbene ci sia un bel po' di touch, su come è d'obbligo nelle ultime auto provenienti dalla Germania, però devo dire che non infastidisce molto secondo me ci si potrebbe prendere molto presto l'abitudine, non fate caso la terra ovviamente in questo piccolo fuori onda vi dico che quello è il foglio per mettere i propri piedi e non sporcare l'abitacolo, l'ho spostato per ragioni di video ma mi sono accorto che da qui dietro si vede, comunque torniamo in diretta, appunto questa è la vista dal posteriore, dal divanetto posteriore della nuova Polo, è arrivato il momento di parlare di dati tecnici e dotazioni tecnologiche di questa vettura, vi ho fatto vedere infatti tanta tecnologia di bordo per quanto riguarda comfort e info telematica della vettura ma anche dei pulsanti particolari sul volante, beh devo dire che quest'auto ha veramente tanti ADAS per essere una compatta, molti sono di partenza, infatti abbiamo praticamente di serie su tutte le Polo la frenata automatica d'emergenza e il lane assist, quindi il mantenimento di corsia, oltre a questo ci sono molti sistemi come ad esempio il cruise control adattivo con stop and go e funzione predittiva, cosa vuol dire? Che l'auto grazie alla presenza del cambio automatico DSG, ovviamente solo per quelle che hanno il cambio automatico DSG a 7 rapporti e lavorando in combinato con la navigazione nell'infotainment riesce a prevedere le strade che stiamo facendo, leggendo i cartelli, riconoscendo le rotatorie e i limiti di velocità dal navigatore e quindi riesce appunto ad attivare fino anche a fermarsi completamente la velocità con appunto il cruise control adattivo, tra gli altri sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida troviamo il rear traffic alert, quindi il rilevamento del sopraggiungere di altre vetture dal lato posteriore della macchina, il cyclist monitoring quindi riconoscimento di ciclisti ma anche dei pedoni, il driver alert che in base ai segnali universali tipo i movimenti della guida riconoscono la stanchezza del guidatore e quindi gli consigliano di fare una pausa, oltre all'automatic post collision braking che è questo sistema che abbiamo visto anche se vi ricordate sulla nuova Honda HR-V, appunto è un sistema che riesce a rallentare, a frenare la vettura in caso di tamponamento e quindi permette di evitare i dispiacevoli tamponamenti a catena, mettiamo il caso che siamo stati tamponati nel posteriore della vettura, l'auto magari non abbiamo il piede sul freno, l'auto in folle, per inerzia l'auto va in avanti e se abbiamo qualcuno perché siamo fermi nel traffico davanti a noi, con questo sistema ovviamente ci devono essere, cioè deve essere un po' di spazio tra noi e l'altra vettura, non dobbiamo essere incollati, bisogna pur sempre mantenere le distanze di sicurezza, appunto riusciamo ad evitare un tamponamento a nostra volta nei confronti di chi ci precede, oltre a questo ADAS abbiamo il pretensionamento delle cinture di sicurezza, il park assist, quindi la funzione di parcheggio automatico per gli spazi di parcheggio perpendicolare e paralleli, bastano veramente 40 cm avanti e 40 cm dietro per far sì che l'auto sterzi in maniera automatica, ci basta controllare la pedaliera e il cambio e c'è un altro sistema che si chiama IQ Drive Travel Assist che è un optional o comunque in base agli allestimenti permette di raggiungere la guida autonoma di livello 2 unendo le funzioni di cruise control adattivo e lane assist per permettere appunto una guida semi-autonoma fino a 210 km orari. Parliamo un po' delle versioni perché se è vero che il tetto è disponibile in nero, quindi una verniciatura bicolore, le colorazioni tra pastelli, metallizzati e perlati sono ben 8. Le versioni sono diverse, abbiamo la Polo che è quella se vogliamo di base, una un po' più accessoriata chiamata Life, la Style e la Airline che a livello di equipaggiamenti sono molto simili sebbene esteticamente la Style sia un po' più elegante mentre la Airline strizza un po' l'occhio al mondo R e quindi un po' più performance di Volkswagen e infine c'è la Polo GT ma ma andiamo per ordine. A livello di personalizzazioni è disponibile il tetto apribile, oltre all'impianto audio Beats da 300 Watt e l'accesso e l'accensione della vettura in modalità keyless quindi con il pulsante e senza dover usare la chiave. Le motorizzazioni sono tutte a trazione anteriore, 1.3 cilindri e si distinguono tra benzina o metano. I benzini partono dall'80 CV MP abbinata ad un cambio manuale 5 marce, si sale a 95 CV TSI turbo con un abbinamento tra cambio manuale 5 marce o DSG automatico doppia frizione a 7 rapporti e si conclude 1000 benzina sempre a 3 cilindri, 110 CV abbinato unicamente alla trasmissione automatica a 7 rapporti DSG. Un'altra variante non solo benzina è quella a metano TG, sempre 1000, sempre a 3 cilindri monovalente da 90 CV per poi arrivare secondo me al fior all'occhiello della gamma che per gli amanti delle auto sportive è un must. La sigla appunto GTI, motore 2000 benzina da 207 CV, una velocità di punta di 240 km orari ed uno 0-100 compiuto in soli 6,5 secondi, una cifra ottima, veramente ottima per un'auto così compatta. I prezzi per la nuova Volkswagen Polo partono per la versione appunto Polo con il motore 1000 benzina 3 cilindri da 80 CV da 18.700 euro. Ora però vogliamo sapere da voi i vostri pensieri qui sotto nei commenti riguardo appunto questa sesta generazione pesantemente rinnovata per quanto ci riguarda della nuova Volkswagen Polo, della Polo appunto. Fatecelo sapere nei commenti, lasciateci un like se questo video e la macchina vi sono piaciuti e inoltre come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Beh, mi basterà iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere tutte le notifiche e anche seguirci dove? Sui social, su tutti, praticamente ragazzi sono tutti, tutti quelli esistenti social su cui siamo presenti, oltre, importantissimo, il nostro sito internet. Grazie a tutti.